Ci ha fatto ridere l'ambasciatore di Jack e tra l'altro qui non posso raccontare una storia che mi ha fatto morire da ridere c'è il solito nostro troll amato Joe Porchetta che in questi giorni quando facciamo i post di Rock TV ha caricato delle gif di uno in fabbrica che tira giù magari degli scaffali delle robe, delle cose, però mi ha fatto morire ma comunque questo si deve far curare mica ragazzi mica accoggiato male proprio ma non hai dei genitori che ti rinchiudono che ti portano da uno psicanalista che va a fare futik per fare otto concetti ma vai a lavorare in fabbrica coglione come ho fatto io per 35 anni e andavo tutte le notti a suonare vaffanculo vai ti faccio vedere c'è un tipo che in fabbrica sbaglia con la macchina ti raggio tutti gli scaffali mi ha fatto veramente porchetta e volevo farti i miei complimenti ti hai fatto fare una sana risata grande Enrico Dedonato